E' sempre un'esperienza, venire a cantare qui al Teatro di Seu è un'esperienza magnifica. Si lavora molto bene, con grande serenità, con grande amore per la musica e quindi venire qui in questo teatro, io lo raccomando a tutti, a cantare e a vedere gli spettacoli che sono sempre delle cose di altissimo livello. Grazie.